Allora Marzo Manuxo ha avuto l'occhio Di notare che ha fatto una nuova Tomahawk Una Tomahawk? Sì mamma mia La gasa la Tomahawk Secondo me You need to try this Quindi magari si può replicare Mamma mia Guarda che grassetto giallo Anche perché Giamma Se siamo tutti e tre nella top 4 Poi al mondiale Andiamo insieme Però che figata è Poi faremmo il mondiale insieme al viaggio Il mondiale Lo vedo col carlo chiaro Dai Hai fatto il 4 bro Manco male Comunque dicono che se siete 100% Redbullati prendete il VIP Sì ma è difficile ragazzi È molto difficile Mamma mia buongiorno Ho messo quella cosa del trimone Vuoi sapere a me che mi ha dato Un per cento trimone Al capito No ma io voglio essere Full trimons Ok burro Burro con spezie È molto burro Con erbe È veramente molto burro Madò Madò Un uovo Un bel uovo sulla roccia Marzò Però guarda come sta diventando bianco È rovente la roccia Guarda che diventa Cooked Sì ma sai che è la merda che c'è sta sopra Non è vero Ma no io sono Io apprezzo questa roba Molto una ciurra Però alle volte ti giuro Mazza comunque quella foto che mi è mannato Un agno non è che mi fia La foto che mi è mannato stamattina è vibe però eh È vibe La fratea mi ha fatto troppo rida Cioè era proprio inaspettato Però io mi è saltato con 18 gradi Parlando Ok ne parleremo dopo allora Oddio Oddio sta a fare un'altra volta grande roba dove mette la carne me sa eh Eccolo 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 Eh perché il tuo manca la penne che fa? Meno male che siamo pure carnivori porca Che porco Che porco zio cane Malesissimo Che maialone Questa si ciò li fa anzi E questo si ti fa il primore duro Eccolo E che oggi non c'è il cane nel video? Eh mi sa che No ragazzi No 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 dai Ragazzi ma che bistecca sta cucinando precisamente È oscura del solito No ma che J-Ron gioca Ma dove va J-Ron? J-Ron sta con l'ossigeno il suo porco Ah gli fa prendere un po' il sapore Oddio due pannocchia sta Buone Quelle le staccavo la pianta e me le mangiavo diretta Guarda che cinematica Ok Ok Un po' di menta Prima Menta e rosmarino Madonna Che strana scelta La menta con la carne Sussa Visto di che cazzo Ho mai trovato Ma è molto buona Però con la carne Eh no con la carne Capito Non l'ho mai Ce sta bene Davvero Non mi è mai capitato Forse ci ho fatto caso Ma con la pianta C'era un giardino puio Puzza Il timo buonissimo Vabbè il basilico Sì c'era il prezzemolo C'è ficca sempre Porco Sta cosa che deve ficca per forza Sempre tutto l'aglio Poi metterà 12 cipolle Il re dell'aglio Ma sai però Marzo perché le cipolle si tagliano bene Eccolo il pane Allora non è la bisucchina Bisucchina No Bazo ti ringrazio amore mio Buonanotte Non penso farò mai un calipo tour Pena Hai capito perché lo schiaccio No 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 c'ha senso Per rilasciare Però potrebbe levare Non leva l'anima dall'aglio Eh se non lo schiacci Tipo l'anima Se non la prendi bene Se lo butti dentro Chiuso Eh no però Marzo l'anima è da sapore Porca troia rega Ma saranno Sapete è veramente poco digeribile Ragazzi ma che ca... Ma questo è per farlo sburro già E' l'intruglio dello sburro E' veri Ma se si scrive in chat si abbassa No spiegate al ragazzo in chat come ne va la chat dal cellulare per favore Double clicca sullo schermo Non è quella rega E lui ha scritto perché se si abbassa la redbullata Non devi scrivere troppo in chat perché se no ti abbassa il redbull level Ah si pensavo fosse una cosa sensata io volevo dare una mano Così Che bella foglia Non posizionata prima da lui Come Mr Beast con Ronaldinho? Che hanno fatto? Hanno pippato Hai visto Ronaldo Marzo? PR no Che ha fatto? Ha fatto il video con Mr Beast Ma ha detto Ronaldinho? No 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 è uscito il video con Mr Beast Di Cristiano Ronaldo Ha fatto il record in un'ora di visualizzazione Porco d***o Ma dove di? Sì ma ragazzi Parlano dell'età Tipo Ronaldo gli fa Tu quant'anni c'hai Mr Beast gli dice l'età Che non mi ricordo nemmeno E Ronaldo fa Ammazza sei proprio giovane Lui guarda Ronaldo e gli fa Eh tu invece ormai c'hai 40 anni Stai per morire Sì bro gli dice questa roba Ti giuro Marzo che cos'è? I capris Boni E Ronaldo non lo so Ho visto solo sta clip So scoppiata a ride Dopo sa Vediamo un attimino Cioè vediamo se è vera Ragazzi Ho visto cosa che cos'è? Questa è burro E questo lo usa come burro? Sì sì È burro aromatizzato C'hai rotto il burro dentro poi Ho visto c'hai rotto un pezzetto Cioè Il problema è che Ho paura lo usi tutto Ma che dici? Eh sì Guarda che non mi stupirebbe Ma do 1,96 è il bullato Manca poco Mamma ho trovato un nuovo gioco Per giochi Torneo video giochistico State capando Broder Bottle flip challenge Mi sento male Mi ha rotto il culo Gianco Estremo È incredibile Incredibile Ah beh perché Ah beh perché Adesso le spalma tutte di burro Probabilmente Ma gli è tappi a poco Sì Ma stanno a peggiannaca Con le mani certo Ma tanto non è nipo con lui Ha un potere Ah frate ma che è il nonno di Matteo HS? No è il padre che è No è Enrico Le Ma Con Le Ma Con Le Ma Enrico Le Ma Nitro benvenuto Giù che grazie per i 15 mesi Oh che buona le pannocchie Porco di Ossie Pavorose Ma frate Pannocchie o Patata quella lì Del KFC? No la patata quella Che Che metti nella carta forno Poi ci spalano Io le pannocchie le prendevo sempre Il KFC Però sì In mezzo sub da un po' Simone grazie per il progetto E perché quella va a contatto diretto E le altre due sono stronze Ah no è ancora Permetti Sto porco dio demonio In realtà tu mi dici Vuoi fare la pulizia dell'OLED? Porco dio Sto streammando Cosa pulisco? Ma Dopo al massimo sali Ti posso da due fiocchi di latte Zio porco Ma ogni stanza la faccio Però pigro Cazzo Che cosa avete Per sopravvivere lì Ma quando partite voi? Scusa Gianchi il primo giorno abbiamo fatto Un digiuno clamoroso Ok Il primo giorno è molto digiuno Però domani incestate Ma come avete fatto un ramadam? In form Gianchi Sono andato avanti a Ciuingam No ma non hai capito? Cioè Non abbiamo mangiato il primo giorno Il secondo giorno Alle 4 di pomeriggio Gli faccio Senti ma Vuoi che ti faccia il pranzo? Gli fa Babbo Come babbo Ma hai visto che Ucraina e Russia Hanno lanciato le bombe Ma è una vita Che stanno a fare la guerra Ormai Ma non si spostava nell'osio Sì sì Ormai si era dimenticato Che aveva uno stomaco Si stava a prendere gusto Perché mi vedevo più sgonfio Ma non fra testa Cosa non va bene Ah Condita con la carbonella Signori Meraviglioso Ma poi Siacquo Siacquo dentro al Al fiume Mi vedevo più sgonfio Ero più fiatto Mi andando in catabolismo Ma non so ragazzi È un figurino E stai facendo sull'altra carne No Vabbè tanto tuoi Ma che cazzo dici Scemo Coglione Petto di merda Ma non è vero Ma sta zitto Ma non è vero mai Messo dice così Perché anche lui è un cesso Io sì Vabbè Io sono un cesso Anche se facessi palestra Ragazzi siete molto belli Non è vero Ciamare Sembrano due testifili No sembra un cuore rotto Ma sono i pulmò 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 Raga Raga ma questo L'ha chiamato Kobe Perché prima o poi Se lo mangierà la palese Cioè sta sempre a fare la carne È un problema Comunque una gribbia Se la poteva pure portare Creare Non è a puto Ora come sta brusolando Però per me Cioè nel senso Comunque la cottura Non sarà molto omogenea No bro Sta per fare una pazzia Eh lo sapevo Adesso 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 si mette il brusolo E poi ripassa Il po' Bro Quelli sono croccantissimi Appena li mordi Quei brusolini Di cenere Porca troia Daniele Grazie per i 10 E lasciamolo là Tanto dai Cioè l'ha messi a letto L'ha messi Dormi Ecco Tipo suo figlio Sì 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 Oh no Gianchi te l'ho detto Ma vedi Ma porca troia Ma che fa La chiamiamo sidrica Ciocco da parte mia Pensare che almeno Un po' di burro Andava per le pannocchia Che avrebbe avuto senso Perché metterci il burro sopra E poi lasciare sul fuoco Ma dobbiamo Cazzazzata Mamma mia ragazzi Mena giù gomma Il piccolo cane Non vuole avvicinarsi Perché non ha senso Però usare così Il burro sulla carne Cioè Così a secco Cosa? Un po' di pomodori Che cazzata c'è? Ragazzi ma sembrano Poi usatemi un po' di gomma Sembrano sti pomodori Sì sembrano tipo quelli Che usi No vabbè ma Oddio si è scottato Ma è mortale Torè Cioè lui è veramente immortale No no Ritorna un po' indietro Guarda Quando mette il pomodoro Hai visto? Eh Ha rosicato Ha rosicato Sì Non c'è l'abica Ma a me l'uovo Non si toglie Dalla padella antiaderente Ma come lo staccamo Da qua questo? Bellissima domanda No cazzo Perché la dimuove La dimuove la padella No sì O quello sicuramente Però cazzo Qui ragazzi Intanto è diventato Il giardino di casa mia È diventato Porca però Il cane c'è il colesterolo Non puoi più parlare Sennò sei omosessuale Eh mo tu lo prendi in bocca Così sono di nuovo Quanto ti fai pagare? Dipende però Marzo Ah boh Famo tre piot Ok Sono sei allora Parte il fatto che Se sono tre piot Quella per fare i bocchini Ho almeno du mila euro I voi Ci sta Oh ma ragazzi Ma l'è uscita perfetta La cottura Ma come cazza fa Ma anzi Ma queste le compri Questo si fa arrivare Uber Eats In mezzo alla campagna Bro non penso Mamma mia zia Ma domani pesce O carne Pesce sempre Eh certo In Etiopia Qui sta Possiamo fare una sottata Mi sa che costano troppo In Etiopia Lascia perdere Non ne voglio parlare Caccia quel zucchino Robby Simone benvenuto Cursato Grazie per i sette mesi Anzi Pisciano a wildcar E fate il sushi Minchia raga Minchia Non so se mi faccio il sushi Il cuore deve giocare con pavalli Oh ma Grazie per i tre Cursato Grazie per i sette Curs Grazie per i diciannove Se te fai la sushi Atta lì Mi sa che devi chiamare A me poi E te serve Giangosura Faccio Ma raga ma che ha fatto Il banchetto Per The One Piece Zio porco Ma che è Casa Casa No però Mette l'uovo ovunque Questo pezzo di merda Ma come tocca a vedere se tanda tanda È un porco di c***o Addormentare No frate ma oggi ho Ma no è vero Ma tu sei il migliore Grazie Ma questa te la fa spoilerando No c'era il Prima Ma sai che ci può essere Grande interruzione Mi sa Come Eh io non so se tu stai guardando ReZero Eh quello Tra tipo due mesi Si vediamo Non credo Ragazzi ragazzi Non sono d'accordo Col fatto che non abbia usato Del burro per le cose Per le pannocchie Ma vedi Magari sul piatto Lì la Ma ti ma tanto ha mangiato Un pezzo di carne prima C'ha più burro in bocca Che di occhione La parmalat Questa è la parmalata Questa è la parma